Escruderebbe la matrice intimidatoria propendendo invece per il gesto vandalico il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara che interviene sull'episodio di cronaca che ha visto protagonista in negativo l'ex sindaco di Castel San Giorgio ed ex vice sindaco, attuale consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Alfano. Solidarietà del primo cittadino e condanna del gesto che ha visto una bomba carta distruggere l'auto del noto esponente politico del piccolo centro dell'agro, ma resta alta la guardia in città. Non si esclude che possa intervenire il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale. Abbiamo avuto un brutto episodio vandalico. Purtroppo un nostro consigliere è stato colpito da un petardo che ha danneggiato il suo portone d'ingresso alla propria abitazione. Un palazzo gentilizio dove il portone d'ingresso è stato danneggiato. Ovviamente noi siamo convinti che si tratterà sicuramente di un atto vandalico più che di un atto intimidatorio. Un atto intimidatorio che non può colpire la nostra amministrazione anche perché abbiamo dimostrato nel quinquennio precedente che noi non ci lasciamo intimidire minimamente, ma anche perché la condotta cristallina sia dell'amministrazione ma in particolare del dottor Alfano non può che dissipare ogni dubbio. Il dottor Alfano è una persona degnissima che gode della stima incondizionata non solo di tutto il Paese ma anche dell'amministrazione tutta, in particolare della maggioranza. È una persona che ha svolto, ha rivestito tutti gli incarichi pubblici che ci possono essere per le cariche comunali. È stato per oltre 13 anni sindaco, è stato per 10 anni vice sindaco e che costituisce sicuramente un punto di riferimento per questa amministrazione, soprattutto per le giovani leve che hanno sempre visto in lui una guida, una persona da cui poter trarre dei consigli, da con cui potersi confrontare in maniera schietta e soprattutto onesta. Un punto di riferimento in senso assoluto e proprio per questo noi abbiamo concretamente dimostrato la nostra solidarietà al nostro consigliere, ci siamo stretti intorno a lui perché penso che la solidarietà oltre che sbandierata sui social vada concretamente manifestata. E questa è una cosa che l'amministrazione ha fatto e lo ha fatto con atti concreti, con atti precisi, con atti che dissipano ogni dubbio e lo abbiamo fatto, ripeto, proprio confrontandoci con le forze dell'ordine. Forze dell'ordine in cui noi crediamo e ci affidiamo ciecamente. Siamo sicuri che risolveranno quanto prima questa problematica e siamo sicuri che sorvegliano il nostro territorio in maniera incomiabile. Sono confrontata con loro e la fiducia che noi nutriamo nelle forze dell'ordine, ripeto, è incondizionata. Quindi questo ci rende più tranquilli, ci rende più sicuri e rende sicuramente il nostro territorio ben seguito e ben monitorato.